Inauguriamo oggi una nuova rubrica del Sicilia.it, una rubrica curata da Aurelio Pess, scrittore, drammaturgo, uomo di una Sicilia profonda che è classicità e tradizione ma anche innovazione e questa rubrica si chiama Encaipan. Aurelio, perché questa rubrica sul Sicilia.it, perché Encaipan? Dunque sul Sicilia.it perché è un giornale che adempie perfettamente ai suoi compiti, informare. Io non compro più altro. Leggo le vostre rubriche e seguo passo 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 i destini della nostra terra. Encaipan ha un significato così profondo che riesce quasi difficile nuclearlo in poche parole. Significa uno e tutto. Avviene così che questo antico motto, questo antico esergo, torna nel pieno della cultura europea. Nel 1795 a Iena si incontrano Helderlin, sommo poeta, forse uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, e il filosofo Hegel, che è inutile narrarne le qualità e le virtù perché è considerato ancora oggi un filosofo senza del quale filosofia non se ne fa. E decidono di rinnovare la cultura europea. Stiamo ben attenti, noi oggi viviamo in Europa. Decidono di rinnovare la cultura europea. In che modo? Tirando fuori l'idea che senza En, vale a dire lo spirito guida, se volete la mente o se volete ancora Dio, e senza Pan, cioè il molteplice della natura, perfettamente integrati e fusi insieme, non esiste cultura. Non sono due personaggi più o meno raccoglitici che si riuniscono, non sono i soliti politici d'occasione, non sono i soliti avvocati di provincia, sono un sommo filosofo e un sommo poeta. L'Europa si fa in nome della cultura, e nel nome della cultura è necessario che filosofia, poesia, arti figurative, musica e così via, si unifichino per dimostrare che gli stati federali e europei non sono una vana parola, ma sono una delle più profonde intelechie di tutti i tempi e di tutti i paesi. Annunciano il romanticismo, tra l'altro con questo esergo En Kaipan. Annunciano il romanticismo e noi sappiamo che il romanticismo significò apertura al paesaggio, alla natura, la natura che si india, che ascende a genealogia della religione e della grande agape dell'Olimpo, di Zeus e così via. Tutto questo ha un significato così profondo che quasi riesce difficile esprimerlo in parola. Questa rubrica ti vedrà conversare, dialogare con diversi esponenti del mondo culturale. Qual è l'intento e se ci anticipi qualche ospite a che hai pensato o qualche tema che vorrei affrontare? Dunque la Sicilia, che noi consideriamo soltanto per le sue rappresentazioni folcloriche o più meschine, mafia, politica e roba del genere, è in realtà uno dei popoli più cosmopoliti del mondo. Pensate che nell'Ottocento i nostri padri volevano fondare una città templare che non aveva niente a che spartire con la massoneria. Significava semplicemente una città che si ricollegasse alla cultura del tempio greco. E riuscirono a costruirla in realtà. Pensate al Teatro Massimo, pensate che questa nostra Palermo era piena di teatri. Il Teatro della Verdura, il Teatro Politeama e così via. La piccola città che trovava la propria dimensione nel grande dibattito all'interno dei teatri trattando i massimi temi della storia della cultura universale. Questo è Palermo, Liberty, il passato storico che tutti conosciamo, Arabi, Normanni e così via. Non entrati qui surrettiziamente, ma usati ed elaborati dal popolo siciliano, dalle grandi maestranze di questo popolo. È tanto vero che i monumenti Arabi, Normanni e così via, e persino i monumenti greci, pensiamo al Tempio di Segesta, hanno una manualità squisitamente siceliota. Questo ricordiamocelo sempre. Quando qualcuno ci racconta che noi in Sicilia siamo stati semplicemente dominati, non siamo stati mai soggetto, ma oggetto di storia. Pensate al barocco di noto. C'è qualcosa di più originale al mondo? Il barocco era in tutta Europa una sigla particolare. In Sicilia ne acquista un'altra. Ora, con orgoglio, noi vogliamo che tutto questo mondo straordinario torni di nuovo in evidenza. Questo è il compito che si propone questa rubrica. Per cui le prossime cose che faremo saranno non legate alla territorialità, cioè al fatto che l'autore è nostro e così via. Può essere un autore che viene da fuori, come Federico II Imperatore, per esempio. Viene da fuori e però, guarda caso, la prima cosa che inventa è la scuola poetica siciliana con cui si dà inizio, pensate un po', con qualche brivido, si dà inizio alla nuova lingua del popolo italiano. E siamo nel 1200. Infatti, Encaipan è anche musica ed è anche poesia? Certo, è musica e poesia perché la scuola poetica siciliana è musica perché parliamo del mondo contemporaneo. In Sicilia, nella seconda metà del Novecento, abbiamo avuto tra i massimi compositori della storia d'Europa Salvatore Scerrino, Francesco Pennisi, Aldo Clementi, e così via. Scegliete Federico Incartona, Giovanni Sollima, scegliete voi. Insomma, abbiamo un panorama vastissimo. La Sicilia non ha ceduto di un millimetro, cioè dal lontanissimo passato, dalla preistoria ai nostri giorni, ha sempre espresso protagonisti. Se voi pensate che il mondo egiziano si ferma ai faraoni, dopodiché non c'è altro, cercate di capire qual è l'importanza di questa terra. Pensare a questa immensa cultura messa in mano oggi a quattro sprovveduti è una cosa che rattrista profondamente, ma bisogna andare alla riscossa. Allora, Encaipan, Aurelio Pes. Grazie. Grazie a tutti.